Uomini e donne, Teresa Ciglia si difende da chi l'attacca a aver fatto il filler e annuncia un nuovo intervento estetico. Teresa Ciglia, extronista di Uomini e Donne, ha risposto alle critiche ricevute per essersi sottoposta ad un piccolo trattamento estetico. L'ex protagonista del dating show di Canale 5 ha pubblicato alcune Instagram stories esordendo con, buonasera. Buonasera a tutte, come state? Scusate la faccia ma ho appena tolto i punti e sono un po' traumatizzata. A seguire, è entrata nel merito replicando alle critiche. Inoltre Teresa ha rivelato di volersi sottoporre ad un intervento di chirurgia estetica. La Ciglia ha quindi aggiunto. L'importante è stare bene con se stessi e nulla conta di più. Vi mando un bacio, ha concluso l'extronista. Il video a cui Teresa fa riferimento è uno degli ultimi caricati sulla piattaforma social. Nel filmato, l'influencer ha riprodotto un trend, mostrando ai suoi seguaci il risultato del trattamento estetico cui si è sottoposta.